Passa a maggioranza la proposta di delibera per l'approvazione del bilancio 2020 di ARPAT che registra un utile di 6 milioni ma persistono alcune problematiche. Il regista Alessandro Sarti rende omaggio con un film ad uno dei personaggi toscani più conosciuti nel mondo, Leonardo da Vinci. Presentato in consiglio regionale il libro scrittori in erba a cura di Sandra Landi, ai sei piccoli autori è stata consegnata una copia della Costituzione e dello Statuto della Regione. ARPAT sia al bilancio d'esercizio 2020 Si è a maggioranza al bilancio d'esercizio 2020 dell'ARPAT, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti. ARPAT istituita con legge regionale attiva dal 1996 e dal 2019, l'Agenzia è diventata un ente vigilato, impegnata a far fronte non solo alle normali attività di monitoraggio, a tutta una serie di attività specifiche, legate ad esempio al cambiamento climatico e ai gas inquinanti, ma anche a fare da strumento di supporto alla magistratura inquirente, da qui l'urgenza di investire in strumentazione e l'implementazione del personale, visto che ARPAT non è riuscita a coprire il turnover, l'età media dei dipendenti è di 55 anni. L'Agenzia opera al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, attraverso il monitoraggio dello stato e dell'ambiente, gli accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e delle persone, da qui le ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e conseguenti controlli tecnici utili alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari. Il bilancio 2020, come illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, è simile a quello degli anni precedenti, eccetto che per l'utile di esercizio di oltre 6 milioni, dei quali, su proposta di ARPAT stessa, l'80% restituito alla Regione, e le restante 20 quale riserva legale a copertura delle eventuali future perdite. Abbiamo anche in Commissione ascoltato il Presidente e il Direttore Tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT, alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo, nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto, soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo, troppe volte questo è successo. Sostegno all'approvazione del bilancio arrivato da Italia Viva. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Alessandro Capecchi ha evidenziato come esista un problema di organizzazione, sia territoriale che funzionale, di ARPAT. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione, in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista delle applicazioni dell'Imo. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici, quindi delle risorse a disposizione dell'agenzia, per svolgere a pieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del Cheu. Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinate dalla presenza del Cheu e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la Regione sta attraversando, non solo per le vicende del Cheu, e quindi ci aspettiamo che la Regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. La consigliera Galletti ha espresso preoccupazione per la diminuzione di alcune attività. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente dopo averlo più volte presentato il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messe in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% e quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la Regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha ribadito il voto contrario al bilancio non tanto dal punto di vista contabile, ha detto, ma sul piano degli investimenti in forte ritardo. Abbiamo espresso un voto contrario anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore e in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli. Che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo, la Toscana dell'inchiesta Cheu, non può permettersi. Quel genio del mio amico Quel genio del mio amico, un film corale, una commedia di fantasia che rende omaggio ad uno dei personaggi toscani più conosciuti nel mondo. È l'ultima pellicola di Alessandro Sarte dedicata a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte. Il film presentato a Palazzo del Pegaso è stato proiettato per la prima volta mercoledì 15 dicembre al Cinema Principe di Firenze. Martedì 21 sarà il Cinema Accademia di Pontassieve. Due sono gli elementi che caratterizzano questa pellicola, gli scenari che ne hanno fatto da cornice e tantissimi personaggi coinvolti. Le prime scene sono state girate nel comune di Vinci, nella Casa Natale del Genio. Il casta novra Sergio Forconi nella veste di attore protagonista e poi nomi come Atina Cenci, Daniela Morozzi, Katia Beni, Giovanni Lepri, oltre a quasi 400 tra attori e comparse. Nasce l'idea nell'anniversario di Leonardo da Vinci, nei 500 anni della morte di Leonardo. Io fin da bambino ho sempre avuto una grandissima passione, una grandissima ammirazione per questo genio, per questo personaggio importante, affascinante e allo stesso tempo un po' folle. Nella bellezza di questa follia, nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di ricordarlo attraverso le immagini, nelle celebrazioni leonardiane, mi è venuta la voglia di realizzare un lungometraggio che parlasse di un particolare momento della sua vita, di una crisi, di un momento particolare di Firenze, sempre celebrandolo con molta fantasia, con molto spirito inventivo. Quindi non è un film storico, non è un film che va dietro la vera storia di Leonardo da Vinci, anche perché milioni di euro sono stati spesi in questo, è una produzione indipendente, per questo sarebbe stato difficile rappresentare un film storico. È un film in costume, molto bello, in location particolare, abbiamo girato tutta la Toscana in lungo e in largo, e abbiamo avuto davvero un cast di amici, ma direi di attori toscani e non soltanto che hanno dedicato davvero tanto tempo a questo lavoro. È stata una grande emozione interpretare un personaggio come Leonardo da Vinci, ma che si scherzava, a questo momento gli ha fatto la storia nel mondo, quindi anche io, lì mi piccolo, ho fatto un po' di storia, si diceva, ma che ti ha fatto? Ho fatto Leonardo da Vinci, e quindi una grande soddisfazione. Ora, io spero che il lavoro sia venuto bene. Abbiamo cercato di fare un po' la storia, molto, molto fantasiace, quindi certe cose, non dico le abbiamo inventate, le abbiamo riprese dalla storia, il regista è stato molto bravo a scrivere questa sceneggiatura, però, certe cose sono un pochino romanzate anche, però sempre riferendosi a una certa, il più reale possibile, insomma. Il film è patrocinato dal Consiglio regionale della Toscana ed è stato realizzato in collaborazione con i comuni che sono coinvolti con le riprese, con la collaborazione del Corteo Storico di Pontassieve e tanti gruppi storici toscani. Nel racconto di Leonardo da Vinci ci sta il racconto della nostra Toscana, della nostra identità. Il genio di Leonardo, insieme a quello di Dante, rendono la Toscana quello che è, terra di storia, di arte, di bellezza, di cultura. E in questo film, nel racconto del viaggio verso Milano da parte di Leonardo, ci sta anche un racconto un po' di quello che siamo, del genio toscano, della simpatia dei toscani. E quindi è un modo, è un segnale bello di ripartenza. È nato nel 2019, l'anno, il cinquecentesimo anniversario di Leonardo da Vinci e oggi lo finalmente riusciremo a offrire al pubblico della Toscana. Il progetto collabora inoltre come ambasciatore nel sostegno a curare e guarire i bambini di Cure2Children Ollus. Ad oggi sono oltre 11.000 i bambini assunti in carico dalla Fondazione Cure2Children che hanno avuto una corretta diagnosi e hanno avuto una terapia adeguata. Sono quasi 1.000 i bambini che sono guariti addirittura con terapie di terzo livello, ossia il trapianto di midollo osseo, in realtà dove praticamente non veniva mai effettuato. Potete immaginare quanta gratificazione c'è da parte mia e da parte di tutti i componenti della Fondazione e non posso che ringraziare di vero cuore Alessandro e tutto lo staff che ha realizzato questo film che in qualche maniera portano a conoscenza di tutti di questa organizzazione che pur avendo testimonial di particolare eccezione come Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello, non investendo in pubblicità potete immaginare siamo sostanzialmente degli illustri sconosciuti. Nel sito italiano abbiamo una media di 10 ingressi al giorno, nel sito inglese superiamo i 1.000. Molto conosciuti nel mondo, poco conosciuti a casa nostra. Ecco che questa sarà l'occasione anche per farci conoscere perché in ogni occasione, in ogni proiezione cercherò di essere presente io o qualche mio collaboratore proprio per diffondere questo messaggio universale di speranza e di vita qual è la Cure2Childry. Dopo gli appuntamenti nelle sale del 15 e 21 dicembre, le proiezioni proseguiranno all'Accademia dopo l'Epifania e si estenderanno in tutta la Toscana. Per il calendario delle proiezioni basterà consultare la pagina Facebook del film. Bambini scrittori in tempi di lockdown Non solo lockdown ma soprattutto l'inizio di un'avventura. Scrivere per raccontare, per esprimere emozioni senza pensare ai voti. E' quanto hanno fatto sei piccoli scrittori fiorentini, Bianca Abrama, Alessandro Caretto, Sebastiano Da Silva, Tommaso Di Maria, Caterina Lioce, Matilde Sarappa che guidati da Sandra Landi hanno dato vita al libro scrittori in erba pubblicato dal Consiglio regionale della Toscana. I protagonisti, bambini e bambini, tra 10 e gli 11 anni che lo scorso anno scolastico frequentavano la quinta elementare in diverse classi con buon profitto, si sono fatti conoscere e in Consiglio regionale hanno presentato il loro lavoro nato durante il primo lockdown che era stato salutato con una certa disaffezione verso la scrittura in generale. Il progetto nasce dall'amore per la scrittura e dall'aver constatato che nella scuola si fanno tantissime cose per carità, sono bravissimi ma non si mette l'amore per la scrittura. Bambini come questi sei che raggiungono ottimi risultati in tutte le materie manifestavano, anche per il lockdown, manifestavano una certa insofferenza per la scrittura. Tendevano a scrivere il meno possibile e più alla svelta possibile senza il piacere della scrittura. Siccome io ritengo che comunque sia fondamentale il piacere della scrittura per accedere al piacere della lettura, che sono due interfacce, abbiamo iniziato il gioco della scrittura. Io credo che l'approccio alla scrittura debba passare da una chiave ludica. I bambini si devono divertire per penetrare il segreto delle parole, per avere il gusto di cercare e di trovare le parole giuste per ogni espressione. Alle parole della curatrice hanno fatto ecco quelle della presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, e del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che si sono congratulati con i ragazzi e con chi li ha affiancati in questo particolare progetto di didattica. Il scrittore in erbe è un bel progetto che il Consiglio regionale ha voluto sostenere e oggi presentiamo perché ha tanti elementi di valore. Uno su tutti il fatto di aver trasformato un tempo difficile per i ragazzi e le ragazze delle scuole, come quello della pandemia, costretti a star lontani in un tempo fecondo di scoperta di novità, in cui loro hanno imparato qualcosa di nuovo e si sono appassionati ad un'attività difficile per tanti ragazzi e ragazze, come la scrittura. In generale i nostri studenti, i giovani, sono molto abituati a usare la scrittura nei social, e sperimentano anche la fatica della comunicazione. E allora io trovo che questo progetto, che le ha messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, a dare un nome alle emozioni, ai pensieri, alle idee, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale. Ed è un lavoro che apre la mente e ben dispone anche ad accogliere gli altri, e quindi alla lettura, a ricevere parole senza significati. E oltretutto loro hanno integrato le loro competenze con l'unico strumento possibile per imparare davvero, che è la passione e il divertimento. I lavori di questi giovanissimi toscani, ricchi di fantasia e capaci di parlare al cuore, attraverso racconti, poesie visive, disegni, foto e anagrammi, verranno distribuiti negli istituti comprensivi di Firenze e città metropolitana, per stimolare la passione della scrittura e della lettura.